Musica Buonasera, ben ritrovati a Vita d'Atleta. Quest'oggi ho l'onore di ospitare una campione di basket in carrozzella, Ian Sagar. Ian, benvenuto all'Ivigno. Grazie. Ti trovi a quell'Ivigno perché vi state allenando, avete deciso di prendere un periodo di preparazione in quota in vista del vostro imminente campionato italiano. È così? Sì, sì, certo. Il nostro campionato è iniziare fra due o tre settimane, quindi dobbiamo venire qua, prendere qualche fitness e preparazione per la squadra. Fino adesso è andato bene, molto bene. Tu appartieni alla Briante 84, una squadra veramente blasonata e tu me l'hai accennato, vi trovate bene. L'Ivigno per voi è stata la prima volta? Sì, sì. Per me è la prima volta in L'Ivigno e subito quando entrare qua è molto molto bello vedere le case, tutte le montagne, è un posto molto particolare, molto molto bello. Le strutture sportive sono state messe a vostra disposizione? Avete trovato porte aperte? Insomma, vi siete trovati bene? Sì, sì, certo. In ogni posto sono molto contento con tutti i palazzetti, anche i ristoranti, tutta la gente, l'ospitalità in L'Ivigno è molto molto bello. Anche per una città piccola hanno tutto, hanno tutti che vogliono. Tutto quello che vogliamo, effettivamente è vero, l'Ivigno si presta molto per gli allenamenti in quota di tutte le specialità e voi siete gli ultimi arrivati, naturalmente i benvenuti. Ci descrivi come funziona un campionato italiano? Sì, il campionato italiano è per tutta l'Italia. Ogni settimana dobbiamo andare due volte al giorno per il weekend. Abbiamo una partita per sabato sera molto simile di campionato di calcio, quindi siamo professionisti veri e dobbiamo lavorare forti ogni giorno per le partite per il weekend. Quindi è una carriera difficile, ma mi piace molto. Quindi il campionato parte ad ottobre, termina? Fino di maggio. Quante giornate di campionato? Abbiamo dieci squadri nel nostro campionato. Dopo l'andato e il ritorno c'è il play-off, speriamo che in brillante possiamo andare a fare. Certo, tengo anch'io le dite incrociate. Sì, grazie. Sono squadre che provengono da tutta Italia oppure più situate nel nord Italia? No, no, tutta Italia, anche c'è un paio di squadre di Sardigna, quindi è uno campionato nazionale veramente. Quindi molte volte andate in trasferta? Sì, 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 certo. Questo è un partito del nostro sport, è un po' difficile, sempre sulla strada, ma anche molto bello perché posso vedere tutti i diversi posti in Italia dopo una partita. Se abbiamo un pomeriggio, sera libero, posso andare a vedere tutte le belle cose che l'Italia ha. Quindi ho visto tanto. Una fortuna per te che sei straniero, sei inglese, da dove provieni, Ian? Dal nord d'Inghilterra, quindi quando avevo le possibilità per venire all'Italia, Cantù, Milano, per giocare un sport che io amo, è una possibilità meravigliosa per me. Sono contento con la mia scelta. E come mai? Tu vivi a Cantù, la Briantea è una squadra che proviene da Cantù. Come mai la scelta di stabilirti in Italia? Per lasciare mia casa in Inghilterra, tutte le famiglie, è un po' difficile, ma questo mio quarto anno giocavo per Cantù, quindi mi piace qua. Ho trovato una donna qua, quest'estate ho sposato in Cantù, vicino a Como. Quindi mia vita è qua adesso, io voglio stare qua per tanto tempo e sono quasi italiano adesso. Beh, direi di sì, la lingua non ti manca, assolutamente. Sei un atleta professionista di questa specialità? Sì, sì, certo. Per otto anni adesso io giocavo basket in carezzina. Quando ero stato in Inghilterra, giocavo per le Paralimpie in Londra, perché non solo gioco per la Briantea. Durante l'estate devo andare a Inghilterra a fare un ritiro con loro anche, ogni anno c'è un torneo internazionale. Quindi sempre c'è basket, ma per fortuna mi piace, mi piace troppo. Ogni tanto è molto difficile, come ho detto, sono in giro tanto, manca mia famiglia, ma sono fortunato che loro lo sanno, che questa è mia vita, loro con me è mia vita, quindi continuare così. Ti seguono e ti supportano, e ti sopportano magari anche, chi lo sa. Ianna, hai avuto la possibilità, ce l'hai accennato, di partecipare alle Paralimpiadi di Londra. Che esperienza è stata? Sì, ero molto molto bellissimo. Una Paralimpi cause è una grande esperienza nella sua vita, ma per un Paralimpi cause è nella tua terra. E in Inghilterra, perché sono inglese e più, tutte le preparazioni, ho preparato per tre anni per Londra. Certo. Quindi quando ho arrivato ero, di miglior vita, miglior esperienza della mia vita. Durante il campionato ero, tutti gli atleti inglesi, ho fatto tanto ritirare con gli atleti famosi, anche noi, ero molto molto bello. Per me è un po', mi sento male, perché durante il campionato di Paralimpi cause in Londra abbiamo finito quarto posto. Quindi per essere, questo vincino è un medaglio, ma non prendere, è troppo difficile. Ma l'esperienza in generale è molto molto bello. Adesso iniziare il Rotorio, quindi lo sport, se tu non finisci bene, è sempre la possibilità per un altro torneo nel futuro per riprovare. Certo. Iana, in Italia si dice che chi arriva quarto guadagna la medaglia di legno, e quindi purtroppo è così. Avete disputato dunque la finale per il terzo quarto posto? Sì, sì, giocavo contro gli stati di America e mi dispiace che l'ho vinto questa volta, ma... Vi rifarete a Rio? Sì, sì, sicuramente incontriamo l'oro in Rio, quindi ho un'altra possibilità per prendere questo medaglio ancora. Nel tuo palmarès ha diverse medaglie europee, di cui anche due titoli, quindi insomma l'Inghilterra in Europa è la numero uno? Sì, sì, certo. Per fortuna, sì. Abbiamo vinto il campionato di Europa. E le regioni di Europa sono le più forti del mondo. Anche questo campionato, non solo è un campionato di Europa, è un torneo per qualificazione per il Paralimpico in Rio. Ancora per fortuna abbiamo vinto passare per Rio, ma c'è cinque squadre di Europa che andano a Rio di Geniro, quindi tutti sono forti. Cinque saranno le squadre europee che rappresenteranno l'Europa a Rio e in totale quante squadre saranno alle Olimpiadi? Dodici. Dodici? Sì. Ok. Allora sì, le squadre europee sono sempre a combattere forti nel campionato del mondo, quindi è bello per noi, perché è un accevimento forte per noi per vincere questo. Certo, è uno stimolo maggiore. Quali sono le altre squadre forti in Europa e poi nel mondo? In Europa, Turchia, Spagna, Germania, tutte queste squadre molto, molto forti. Anche giocavo con l'Italia tantissime volte, sicuramente io conosco quasi tutta la squadra, quindi i miei amici, ma avevo la possibilità di giocare contro loro per le squadre nazionali. Ma nel mondo, ancora l'America, sono forti, Canada, Australia, quindi il basket in calzina è un sport grandissimo, con tanti giocatori forti. Anche adesso il nostro sport diventerà piano piano più professionista, quindi tu devi essere un atleto primo, con una disabilità secondo, quindi il livello di competizione è sempre andare su. Certo, chi sono i campioni del mondo in carica? Adesso è Australia. Australia, e invece quelli olimpici? Canada, perché per Canada loro hanno un giocatore più forte del mondo, come Michael Jordan, ma per basket in calzina. Certo. Loro hanno questo giocatore, ho giocato contro lui tantissime volte, è un'esperienza, perché come un giocatore tu voglio sempre combattere contro i più forti giocatori del mondo, più forti squadre del mondo, perché per me il festa dopo abbiamo vinto il campionato, questo non perché io gioco sport, io gioco lo sport perché voglio combattere durante la partita, tutte le energie, l'agonismo, l'adrenalina. Questo mi piace, non la festa dopo, il sport veramente mi piace. Certo, avversari dentro il campo e amici fuori il campo, ma quando si gioca, si gioca duro. Sì, sì, certo, anche contro tutti i miei amici di Brienteia, qualche giocatore, gioco per l'Italia anche, e sul campo non siamo amici, ma subito, se abitro fischia, siamo amici ancora. Iana, non a caso hai citato Canada e Australia quali campioni nello sport, ma anche campioni nell'integrazione, insomma non ci sono tante barriere architettoniche come purtroppo esistono ancora in Italia, è così? Sì, un pochino sì, ma l'Italia ha tantissime storie, quindi per fare questo diverso cambio, per gli scarri ogni giorno, per la vita, è difficile perché se c'è qualche grande catedrale, devi lasciare così, ma piano piano, io abito in Milano, tutti lì, cambiarsi, e anche tante persone in Italia vogliono aiutare, quindi spero che continuare così sarò bene, sarò facile per me. Ti sei avvicinato al basket in carrozzina in seguito ad un incidente stradale, possiamo sapere di che natura ce lo racconti? Sì, sì, prima dei miei incidenti, io sempre giocavo sport nella squadra, calcio o rugby, e quando ho fatto i miei incidenti con moto, tanti anni fa, dopo volevo andare nel sport ancora, perché è il mio carattere per combattere e giocare, e non posso fare calcio o rugby ancora, e quindi io troverò qualche sport, basket in carrozzina, ho provato a notare, tennis, tantissimi altri, ma quando ho trovato basket in carrozzina è un sport veramente, è un sport forte, e mi piacciono le squadre, le comrade, si dici nel sport di squadra, quindi quando l'ho trovato, sono stato lì, sono qua in Italia a vivere le dolci vite adesso. La dolce vita, bravo, hai proprio ragione. Gianna, di momenti bui ne avrai vissuti, soprattutto nel momento in cui dopo l'incidente ti hanno detto che purtroppo hai perso l'uso delle gambe, e lì è stato lo sport ad aiutarti ad uscire da questo periodo, penso che insomma sia stato difficilissimo. Sì, sì, quando ho fatto i miei incidenti da qua giù non mi sento niente, ma quindi dopo un po' di tempo, poco a poco, un pochino più è arrivato, ma durante l'ospedale ero lì quattro mesi. Avevi 17 anni, ricordiamo, quindi l'età. Sì, sì, quindi ero giovenissimo, sì. Ma accanto al mio ospedale in Inglaterra c'è un campo, una palestra. Io ho visto qualche gente giocano lì, fare arcieri, basket, snooker, tennis, tutto. Quindi è un modo di riabilitazione. Sì, bravissimo. Quindi perché la tua testa è andare giù, non posso camminare, non posso fare niente, perché devo vivere, tutte queste cose entrano nella tua testa. Ma quando tu alzarsi finalmente, guardare, c'è tante belle cose da fare. Quindi per me lo sport, lo basket in calcina mi ha dato questa vita. Mi piace la mia vita adesso. Non voglio cambiare niente per niente. Quindi per qualcuno che ha la mentalità non posso fare, non posso fare. E non è vero. Ce la fai. Tutto è possibile. Alziati e prova. Sì. Se si ha la volontà, se si ha la testa. È uno sport duro, è uno sport fisico, di contatto, ed anche uno sport velocissimo, di azione, di tempismo, di coordinazione. È così? Sì, sì, certo. L'allanamento è sempre forte. Anche per basket normale, come NBA, il campionato qua in Italia, per basket in calcina è in più la calcina. Quindi dobbiamo fare la stessa cosa che loro fare, tirare, fare le passaggi, ma controllare la calcina anche. Quindi è molto difficile, ma devi imparare, come tutti. Più che tu allenarsi, più bravo diventerà. Quindi la voglia nel tuo corpo, se tu volevi abbastanza, tu ce la fai. Ce la fai. Quante ore al giorno ti alleni? Ogni giorno, cinque giorni alla settimana, due ore per la mattina e due ore per la sera. Ogni sabato abbiamo una partita. Quindi è un grande impegno, ma per fortuna mi piace questo impegno. Certo. Ogni domenica andare a casa, non voglio fare niente, riposo bene. Il riposo conta, e come. Fate anche molta palestra, perché vi abbiamo visto in azione in questi giorni, in quali vigno avete una parte superiore del corpo, veramente sviluppata, insomma siete super muscolosi. E suppongo che ci sia anche un po' di palestra. Sì, sì, certo. Abbiamo il programma per tutto, perché adesso il nostro sport diventerà più professionista. Dobbiamo fare qualche cosa più con scienza, non solo la razza, la razza, 10 ore al giorno. La tecnologia applicata allo sport. Sì, sì, sì. Dobbiamo allenarsi con intelligenza. Quindi è migliore fare poco, ma bravissimo, che fare tanto e non c'entra niente. Quindi continuare così, tutti diventano più bravi, ma non solo me, tutte le squadre nel mondo fanno così, quindi se io non faccio, loro fare e diventano più bravi che me. Io non voglio così. Quindi è sempre il commitment. Il combattimento. Per essere bravo, sì. Qual è il tuo punto di forza, Ian? Io sono un punto 3 per basket in calazzino, quindi sono un center, si chiama. Il centrale. Sì. Il basket in calazzino è lo stesso che il basket normale, c'è la guardia, cercano fuori, tira doors. Io ho un centro, quindi io devo essere, grandi, picchiarsi con tutti gli altri centers nel mondo, per prendere un bel tiro per la mia guardia, mettere la canestra dentro il zona. Certo. Quindi ho il lavoro forte, ma... E invece il tuo punto debole? Io sono un centro, quindi gioco dentro il zona, quindi non sono un playmaker, io non paleggio la pallone, in questo senso io devo migliorare, perché ogni volta io prendo la palla, io devo tirare, se no il mio playmaker, volare, vuole la palla indietro. Quindi il nostro allenatore nuovo, allenatore, Fare questo lavoro con me, perché il più bravo in ogni aspetto del basket in calazzino può essere, diventerò più bravo io come un giocatore intero. Quanto conta la testa? Avete un mental coach in squadra o nazionale? Avevo tanti diversi allenatori nella mia carriera, e ognuno ha il suo modo, il suo stile di allenarsi. Certo. Quindi per me, perché avevo un carriera abbastanza lungo, 8-10 anni adesso, ogni diversa allenatore mi dà qualcosa di diverso. quando ho iniziato avevo un allenatore australiano, e lui era molto duro, urlare, spingi, spingi, e quindi ho imparato la carriera per il lavoro. Ok, la cattiveria. Sì, sì, ma dopo diversi allenatori con Marco, lui è proprio tecnicale, devo usare il cervello più che i muscoli, quindi ho imparato con l'altro lato di basket. Certo. Ma sicuramente ti serve, diversi caratteri, diversi genti, diversi tipi di allenatori, per prendere un pochino di ognuno, per essere bravo, intero da solo. Quali sono gli infortuni più frequenti nel basket? Eh, sicuramente le spalle, perché dobbiamo spingere la carriera, anche durante il giorno, sono in un carriera anche, quindi mai posso riposare, devo tirare, quindi molto, molto importanti per tenere sicurezza. Certo. In le spalle. Ogni giorno io faccio mezz'ora di riabilitazione, con una banda, piccoli esercizi per stare sano. Sicuramente avrete nello staffa anche un fisioterapista. Sì, certo. Come un allenatore, un giocatore, un fisioterapista, è necessario. Il nostro squadra è molto, molto importante, perché se hai visto una partita, è molto, molto forte, quindi dopo una partita, il mio corpo sentì come, è stato nel guerra. e quindi dopo ogni partita devi recuperare bene, con il ghiaccio e gli altri esercizi per stare sano. il fisioterapista è un fisioterapista è un controllare tutto questo, perché se non sono sano, non posso giocare. Certo. E alla fine devo giocare. Certo. fondamentale è l'alimentazione. Per te che provieni dall'Inghilterra, trasferitosi in Italia, dove la cucina, penso, sia ottimale, sarà un po' un problema rimanere a dieta, tra virgolette, a dieta sportiva? Sì, sì, certo. Il cibo in Italia è molto, molto buono. Devo stare attento a cosa mangiare, quanto mangiare, ma per fortuna in lo sport, se tu lavori forte, devi mangiare forte, perché questo cibo è mia energia ogni giorno. Certo, certo. Quindi la pasta e le altre cose, puoi mangiare abbastanza. Gianna, hai un idolo sportivo? Allora, il mio idolo sportivo, quando ero stato in ospedale, e guardato tutti gli giocatori, che giocano basket in carezzina, ho visto un uomo, lui gioca basket in carezzina, si chiama Simon Moon, una leggenda del nostro sport. Lui giocava qua, in Italia anche, ma il suo carattere, il suo come giocare, ho visto lui in allenamento, e lui è nato forti, con tutto il suo corpo, il suo cuore, e quando ho visto lui, ho pensato che, wow, questo è un, diciamo, un superman nel sport, come io posso essere come lui. Certo. E per fortuna, ho giocato basket in carezzina, e adesso gioco nella squadra della Gran Bretagna, con lui. Sì. Quindi ogni giorno, adesso, imparo da lui. Certo, certo. quindi questo mio idolo, voglio essere così. Certo. Ianna, sei veramente un campione, sia sportivo, ma anche di grande umanità. Vuoi dare un consiglio ai giovani, ai giovani sportivi, e non, insomma, magari, rivolto a quei, a quei giovani, bambini, che non hanno tanta voglia di fare sport, che preferiscono il divano, oppure la Playstation, vuoi dare un consiglio, oppure, vuoi spronarli, per fare sport? Well, mai dire mai, perché se tu guardi TV, o giochi a FIFA, nell'Xbox, qualcosa, tu pensi che tu non puoi essere come Ronaldo, come Messi. Giusto. Loro sono umani, come noi. Quindi la differenza è, loro andare fuori, e lavorano, perché non è un incidente, perché Messi, lui lavora forte. Certo. Ogni uno nel mondo, può essere Messi, se loro lavora abbastanza forte. Quindi, lavora abbastanza, e prendi per te. Ti ringrazio. Grazie davvero di cuore, un grossissimo in bocca al lupo per Rio, per la tua carriera, per la tua vita. Grazie davvero. Grazie mille. Ed è tutto per questa sera, grazie per la cortesa attenzione, vi rimando a mercoledì prossimo. Buona serata. Buona serata. Grazie.